Ed eccoci arrivati al secondo appuntamento dedicato ad Endgame, come da tradizione, perché insomma tutte le volte che parlo di un film Marvel e non ne parlo bene, arrivano tantissime obiezioni, tantissime obiezioni. E devo rispondere a queste obiezioni per farvi capire che in fondo un minimo ho riflettuto prima di dire quello che ho detto. Io ho detto che gli Avengers trovano queste gemme andando nel passato grazie a una sorta di Google olografico, perché fanno sta ricerca e trovano le gemme. E voi mi avete detto, non è vero, ognuno di questi Avengers ha avuto un'esperienza con una gemma, quindi loro sanno dove si trovano perché le hanno avute per le mani o comunque ci sono passati vicini. Questa cosa è vera soltanto in alcuni casi, in altri casi queste gemme le trovano grazie a Google olografico o vogliamo chiamarlo Dragon Radar, visto che hanno rubato la trama Dragon Ball praticamente in questo Endgame, grazie al Dragon Radar, perché ci sono casi in cui Quill va a rubare questa gemma e non è più in vita Ronan, non è più in vita Yondu, non è più in vita Quill, quindi si sono inventati sto procione che fa Quill mi ha detto che ha preso la gemma da Morag, che tra l'altro è quasi l'anagramma di Gamora. Ci manca una A, però sarebbe quasi... Comunque ha preso la gemma da lì, Morag è una catapecchia, quattro assi e due finestre, e quindi è facile trovare la gemma. No, Morag è un pianeta! È un pianeta! E non credo che Quill abbia mandato la posizione a Rocket. Questi vanno sul pianeta? Niente, si trovano esattamente lì dove era Quill. Mi potreste dire che hanno usato il Dragon Radar per trovare queste gemme perché mettono potenza, ma all'inizio del film ho capito che queste gemme si rintracciano quando si usano, non quando stanno lì. Perché rintracciano Thanos grazie a questa scia energetica lasciata dall'utilizzo di tutte le gemme insieme, tra l'altro. Quindi non credo che questa gemma sia rintracciabile, e se lo fosse, non capisco perché Thanos l'abbia lasciata lì su Morag, lasciando arrivarci Quill e chiunque altro, visto che il piano di Thanos per mettere insieme queste gemme è molto più antico della volontà di Quill di rivenderselo da un rigattiere. Quindi, me la spiegate? Come ci sono arrivati? Non lo so. Nebula, tra l'altro, poi dice Eh, mio padre ha ucciso mia sorella su questo pianeta. È un pianeta così, è un pianeta così. Lei non sa un cazzo di questo pianeta. Non ne sa niente, non sa neanche che c'è il teschio rosso, perché altrimenti avrebbe avvertito gli Avengers che chi va lì deve ammazzare qualcuno o deve fare un sacrificio allucinante. Ci manda un occhio di falco e vedova nera. Quindi non sanno di che posto si tratti. Non ne hanno idea. È un posto misterioso, però sanno anche in questo caso, arrivi, sono lì, che c'è un navigatore. Ragazzi, dovete ammettere che c'è un navigatore. C'è un Google olografico, non sta di Google, è un Google olografico, signori, che guida queste persone verso le gemme. Per forza, deve essere per forza così. Le uniche cose credibili sono ovviamente Capitano America che va a riprendere sto scettro, sono Thor e Rocket che vanno ad Asgard. Quelle cose sono credibili perché sanno esattamente dove si trovino le gemme. Negli altri casi dovete ammettere che hanno usato Google Maps, però olografico. Sinergo, non è vero che i viaggi del tempo non funzionano, perché è proprio come dice il film. Sei tu che non ci hai capito un cazzo. Sinergo hai dormito. Ho dormito, ma poi la mattina dopo l'ho rivisto il film. Quindi ho percepito il film mentre dormivo. E quindi è comunque qualcosa mi è entrato. E poi l'ho rivisto sveglio la mattina. Non è vero che ho dormito. E mi dite, eh, Nebula uccide se stessa, ma poi torna comunque nel presente perché quando le uccide se stessa lo sta facendo in un'altra linea temporale. E qui state dando praticamente credito alla teoria della pelata del Dottor Strange, no? Ci sono altre linee temporali quando tu cambi la storia, generi nuovi percorsi. Purtroppo il film si contraddice o perlomeno usa due pesi e due misure in base a quello che serve alla sceneggiatura. Perché vediamo Capitano America andare nel passato, rimettere al suo posto la gemma, ma poi cambiare comunque gli eventi perché rimane lì. Pre-congelamento, signori. Pre-congelamento, passa tutta la vita con questa tizia e noi lo rivediamo vecchio, dove? Nel suo stesso piano temporale, quello da cui era partito. Quindi esiste o non esiste questa diramazione dei piani temporali? A seconda della sceneggiatura. E questo che dico, io non dico che la teoria sia sbagliata o sia troppo fantascientifica. Dico semplicemente che questa teoria non viene mai seguita. Ti fanno due coglioni così con queste teorie, migliaia di teorie, però poi ti fanno il gioco delle tre carte perché a volte attuano queste regole, a volte no, in base alle esigenze di sceneggiatura. A loro piaceva tantissimo far invecchiare Capitano America e farlo arrivare fino nel presente. Tra l'altro, andando lì nel passato, prima dell'ibernazione, potrebbe aver convissuto con il vero Capitano America che è stato ibernato e poi scongelato. Ce ne sono due in quella linea temporale e quindi Capitano America è arrivato fino nel presente. Però negli Avengers non c'è. Infatti tutti lo danno per morto. Non è lì con loro. E loro sono ancora gli Avengers comunque. Ma che cazzo... Cioè, perché? Perché lui dovrebbe stare lì? Io veramente, ragazzi, non ho parole. Non ho parole. Il guanto di Tony, lì mi avete dato praticamente tutti ragione, è impossibile che sto guanto dei nani sia l'unico modo per imbracciare queste gemme senza esplodere. I Guardiani della Galassia, nonostante la gemma fosse montata su un'arma, imbracciata da Ronan con un potere allucinante, hanno dovuto metterci tutti quanti per non saltare in aria. Con una sola gemma. Una sola gemma. Non tutte. E Tony Stark fa il guanto a Hulk, fa il guanto a se stesso. Tra l'altro il guanto di Hulk poi diventa qualsiasi misura possibile, immaginabile, se lo mette chiunque. Se lo mette Thanos, se lo mette Hulk, se lo mette Vedovani, chiunque può metterlo, quel guanto. Ecco, io non capisco. Cioè, in Infinity War vi siete palleggiati queste gemme per tutto il tempo, le siete proprio palleggiate, avete giocato a ping pong con quelle gemme perché Thanos non le prendesse, e in tutta Infinity War nessuno è venuto in mente di usarle, queste gemme. Potevate farlo. Potevate usare le gemme. L'abbiamo scoperto in Endgame quando le gemme non ci sono e non si sa su cosa abbia fatto ricerca Tony Stark per realizzare questi guanti magici meglio dei guanti nanici leggendari e magici perché ricordiamo che mettere insieme diversi universi significa anche creare casini di questo tipo. Tony Stark non è un mago, ma gestisce poteri magici in questo Endgame. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Cioè, questo succede. Guardiani della Galassia è un universo a sé stante Iron Man è un universo a sé stante Thor è un universo a sé stante metterli insieme significa creare delle situazioni completamente incompatibili a livello narrativo e quindi mette insieme la magia, la tecnologia gli alieni, i mostri gli dei, i miti è un carrozzone allucinante nel quale giustamente i fan non capiscono più un cazzo di quelli che siano gli equilibri delle forze in gioco e si lasciano passare sotto gli occhi qualsiasi cosa ma non è così. Tra l'altro il mio caro amico Christian di Stroncando l'orrore mi fa notare che gli Avengers durante una gag scoprono il segreto della vita eterna. Questi scoprono la vita eterna e non se ne rendono conto perché quando mandano indietro nel passato Ant-Man Ant-Man ritorna nel presente con la sua coscienza del presente ma in un corpo ringiovanito. Cioè se uno mettesse poco poco a puntino quella cosa facesse ogni tre anni questo viaggetto nel tempo e tornasse indietro di tre anni sarebbe eterno eterno Hanno scoperto la vita eterna durante una gag ma non se ne accorgono E... Raga Raga guardiamoci in faccia seriamente non c'è una cosa che torni non ce n'è una niente gente che su un intero pianeta sa dove si trovano le gemme solo perché ha sentito che l'hanno presa lì in quel pianeta non in quella stanza in quel pianeta personaggi che vanno al macello perché si sa dove sta la gemma però non si sa come sia avvenuta la morte di Gamora e quindi vai al macello cioè a volte mi chiedo se lo facciate per sport a tentare di giustificare certe soluzioni narrative o se lo facciate perché non riuscite proprio ad ammettere che siano buttate lì a caso ma ripeto l'ho detto anche nel primo video a me ci sta che si butti tutto in caciare l'ho detto per me la soluzione migliore sarebbe stata costruisce una macchina del tempo Tony Stark e si va tutti indietro a fare e invece no l'hanno dovuta complicare mi hanno dovuto annoiare mi hanno dovuto far addormentare con tutte ste pippe ultima cosa la più importante Sinergo ma loro se fossero tornati indietro per ammazzare Thanos comunque non avrebbero risolto il problema infatti non dico di tornare indietro a ammazzare Thanos e pisciargli in bocca io dico di tornare indietro ammazzare Thanos o picchiare Thanos insomma prendergli le gemme tornare nel presente e usare le gemme per fare quello che vogliono fare cioè non dico di uccidere Thanos e poi andarsene quello lo fa Thor così con l'ascia senza senso io dico invece di dividere la missione in diecimila piccole missioni che possono fallire quindi aumentare la possibilità che fallisca tutto il piano perché ricordo che ci vogliono tutte le gemme per fare quello che vogliono fare sarebbe stato molto più intelligente tornare non al momento in cui Thanos sta facendo così che ormai tutto è perduto ha tutte le gemme a qualche ora prima cioè a quando questi palleggiavano le gemme allegramente però con l'aiuto di Capitan Marvel molto probabilmente sarebbero riusciti perché sono riusciti per un'ora a palleggiarle senza Capitan Marvel con Capitan Marvel probabilmente gli avrebbero fatto un culo così a Thanos e avrebbero preso le gemme in un momento storico in cui le gemme sono tutte lì tutte insieme invece questi si sono dovuti dividere massimizzare la possibilità di fallire queste missioni perché ce ne sono troppe per cosa? sempre per esigenze di sceneggiatura perché hanno voluto ripercorrere alcuni momenti del Marvel Cinematic Universe e per carità ci sta ma a livello logico no a livello logico avrebbero dovuto sfruttare la nuova supereroina appena arrivata che tra l'altro fa una comparsata qui e là quando lei è veramente la cosa più importante per vincere questa guerra lei se ne va in giro per l'universo nonostante tutto ruota intorno alla Terra queste gemme dell'infinito sono state sempre sulla Terra buona metà è stata sempre in giro sulla Terra negli ultimi anni ce l'hanno sempre loro loro hanno combattuto con Thanos Thanos ha fatto questa cosa combattendo con la Terra e lei invece se ne va in giro per il Cosmo torna così soltanto perché a un certo punto se ci fosse lei per tutto il tempo avrebbe poco senso andare avanti con il film questa è la verità perché lei è troppo forte cioè come Justice League arriva Superman tutto si risolve se arriva Capitan Marvel tutto si risolve quindi lei si inventa degli impegni oh ho lasciato il gas acceso su Nettuno devo andare oh oddio 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 la vasca la vasca su Marte cioè no no raga a me sto Endgame non torna dall'inizio alla fine non mi torna nulla nulla a prescindere da quelle che sono le cose che non mi ricordo a prescindere da tutte quelle cose che ovviamente non mi posso mettere a ricercare a rispulciare degli altri film infatti su quello non mi sono pronunciato mi sono pronunciato solo dicendo è indecente che uno debba riguardarsi 21 film per capirne uno su questo mi sono pronunciato e stop non dico altro perché quelli sono dettagli che non ricordo ma sulla logica interna di questo film vorrei che capiste che forse forse c'è stato un minimo di attenzione da parte mia ripeto il film l'ho rivisto la mattina dopo non tutto ho rivisto la battaglia finale ma che riguardi la battaglia finale mi sono riguardato tutte quelle parti che mi sono sembrate strane o comunque che cozzavano e cozzano cozzano da morire e vongolano pure comunque molto presto su questo canale porterò una live in compagnia di Federico Cammina e parleremo di percezione perché lui è uno scrittore e quando guarda un film sta molto attento alla scrittura non si sbatte un po' al cazzo di quella che è la regia magari le soluzioni visive no io invece sono molto preso dalle soluzioni visive però sono comunque abbastanza nazi per quanto riguarda la scrittura voglio che sia coerente quello che guardo perché quando vedo che il film tenta di prendermi in giro mi infastidisco molto poi ci sono ecco parleremo anche dei fan sfegatati che comunque sia fanno uno sforzo di immaginazione fanno uno sforzo di calcolo molto superiore a quello che fanno gli sceneggiatori per giustificare tutti i loro errori e questo è vero cioè i fan si impegnano molto più degli sceneggiatori stessi per rendere credibili certe paccate molto di più cioè questi si sono limitati a fastoprocione che fa qui mi ha detto che ha trovato la gemma su un pianeta sceneggiatori pensano pianeta ragazzi basterà sì ma che cazzo ce ne frega ma questi vogliono vedere le mazzate saranno già addormentati dai mettiamo invece poi no sono sicuro che adesso arriveranno no ma perché le gemme emettono delle frequenze strane che loro riescono a captare sicuramente con un dispositivo di iron man che qui non si vede ma nel numero 15 del fumetto sono sicuro e io e Federico parleremo di questo di come diverse persone percepiscono magari la stessa opera perché ci sono sensibilità diverse ci sono esigenze diverse quando si racconta una storia io ero il bambino che quando mi raccontavano le favole chiedevo sempre ma perché ma perché cioè c'era mi ricordo c'erano delle favole che avevano dei punti oscuri non mi piacevano perché non capivo come mai certe meccaniche venissero messe in campo ma così gratuitamente in realtà molte molte favole sono sono buttate lì cioè ci sono delle cose che accadono topigliatele però da bambino non capivo il perché il senso di certe cose c'erano personaggi che si mutilavano che ti regalavano un braccio così raga è così ognuno vede le cose a modo suo però quando si parla di logica dovremmo almeno essere tutti d'accordo non dico che vi deve fare schifo endgame non dico che vi deve fare schifo però almeno su quello che è il fattore meramente logico cercate di essere un attimino meno fan e di ragionare un pochino di più perché se no io sto notando che il livello di scrittura di questi film sta peggiorando non di quelli singoli magari il singolo Thor il singolo Capitano America il singolo Guardiani ma tutti i film in cui c'è tutto il carrozzone c'è tutti insieme cioè non funziona cioè questo Capitano America che va nel passato e annulla il se stesso del passato perché si annulla lui non esiste più e dà addirittura lo scudo a un nuovo Capitano America cioè genera l'uccisione del vecchio Capitano America che non esiste perché lui ne nomina un altro ma vi rendete conto? altro che crea una nuova linea temporale no no questo va nel passato rimane sulla sua linea temporale e massacra il se stesso del passato lo annulla per crearne un altro poi nel presente oh ma stiamo sgherzando Sì